Io dopo aver salutato Vincenzo prego la regia di contattare tempestivamente anche Luca Bruschi presidente dell'Associazione Europea Vie Francigene perché oggi ecco ci dedichiamo in occasione del weekend di Cammini Aperti a fare un focus appunto sull'importanza dei cammini. Luca Bruschi direttore dell'Associazione Europea Vie Francigene come stavo dicendo è anche esperto di turismo sostenibile, culturale, radici, odore e cammini, nonché giornalista, pubblicista. Eccolo Luca, buongiorno, grazie per la disponibilità, so che tra poco hai un altro convegno per cui un grazie particolarmente sentito. Abbiamo iniziato a parlare di Cammini Aperti, lo abbiamo fatto con Vincenzo Caruso di Cammini d'Italia, tra i cammini ci sono senza dubbio le Vie Francigene, ne volevamo parlare con te che sei presidente dell'Associazione Europea Vie Francigene. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Allora, tra i cammini si inseriscono senza dubbio questi cammini storici di grande rilevanza culturale che sono le Vie Francigene. Ecco, ti chiederei un flash su intanto ecco su come possiamo definire al meglio che cosa sono le Vie Francigene e poi quanto è importante valorizzare appunto questi percorsi. Grazie per questa opportunità, cercherò di essere sintetico. Le Vie Francigene, giustamente al plurale, sono un fascio di cammini che però hanno una sua dimensione geografica molto precisa e cioè da Canterbury a Roma, secondo l'itinerario di Sigerico, itinerario culturale del Consiglio d'Europa che quest'anno festeggia i 30 anni della certificazione, compresa l'estensione bellissima, da Roma a Santa Maria di Leuca. In totale 3200 chilometri, se uno volesse farseli a piedi indicativamente sono 5 mesi, 155 giorni di cammino che ovviamente non è obbligatorio fare in maniera consecutiva. Le mete sono importanti perché è un cammino che ha anche una sua spiritualità forte se arriva poi alle mete di Pietro e Paolo in Vaticano e poi si prosegue anche per il sud, quindi con i porti di Puglia, Santa Maria di Leuca alla fine, ma si può in primis fermarsi già a Monte Sant'Angelo, a Bari, a Brindisi. Ecco, oggi stanno vivendo un periodo di grande successo i cammini per tante motivazioni. Le istituzioni stanno investendo, c'è una cooperazione con le associazioni, il mondo dei camminatori, il mondo accademico, tra pochi infatti interveremo a un convegno dedicato all'UNESCO alla Via Francigena e soprattutto non ultimo per importanza il tema delle categorie economiche e dei servizi, perché questo è un aspetto fondamentale. Se vogliamo che le persone sempre più camminino, servono servizi, comandare un'autostrada a cui servono gli autogrill, le pompe di benzina, servono i ristori, serve l'accoglienza, serve un percorso in sicurezza possibilmente accessibile, serve una manutenzione e serve poi anche tutto il sistema di promozione in grado di far rivivere continuamente la Francigena che è un itinerario sempre più internazionale. Quindi nei territori attraversati avremo, e già li abbiamo ora, camminatori che arrivano dall'Australia, Nuova Zelanda, Giappone. Ecco, non immaginiamolo solo come un cammino regionale, no. È un cammino europeo, anzi mondiale, per cui vengono a camminare in questi territori non così conosciuti a livello europeo, camminatori che vengono da tutto il mondo. Grazie Luca. In studio con me c'è la collega Maria Pia Picciafuoco che sta seguendo con interesse la nostra conversazione. Prima di salutarci volevo chiedere a Maria Pia se hai qualche domanda o qualche curiosità. Sì, io ci terrei molto a capire se tra i servizi di cui giustamente lui stava parlando prevedete anche il servizio culturale, cioè effettivamente far capire a queste fortunate persone quanto è importante proprio per la nostra storia e la storia che verrà un'azione del genere. Sì, questo è un tema fondamentale. Infatti la francigena è comunque un itinerario culturale. Dentro la parola cultura c'è l'aspetto religioso, nonché gastronomico, turistico, architettonico. La parola cultura in senso ampio è fondamentale. La francigena possiamo davvero immaginarla come una bellissima collana di perle. E le perle sono tutti questi siti culturali da pieve, cattedrali, abazie, ponti, strade romane o tante altre emergenze architettoniche e paesaggistiche che sono attraversate. Quindi attraversare l'Europa a piedi, l'Italia a piedi da nord a sud sulla francigena dà la possibilità lentamente di scoprire queste emergenze. Quindi ovviamente la parola cultura diventa un attrattore importante per caratterizzare questi territori. E qui ovviamente non dimentichiamo che questo ha anche delle ricadute economiche sui territori. Grazie Luca per essere stato con noi. Sono davvero felice di aver potuto scambiare due chiacchiere con te, soprattutto perché sono un piccolo camminatore e per aver condiviso tanta bellezza con i nostri telespettatori che ci seguono dal nord al sud Italia a cui invito di mantenersi aggiornati attraverso il sito www.viefrancigene.org Luca ti auguro un buon proseguimento di giornata, buon lavoro e buoni cammini. Grazie ancora e complimenti per il vostro lavoro di divulgazione e informazione. Grazie, a presto. Grazie. Ringrazio anch'io e volevo segnalare che tra le foto che ci sono arrivate c'era anche, lo ricordi, la cattedrale di Canterbury pochi giorni fa. È vero, è vero, assolutamente sì. Quindi siamo sempre sul pezzo. Siamo sul pezzo, grazie. Grazie Luca, buon proseguimento di giornata a te. Maria Pia, ora ci fermiamo solo per qualche istante con la pubblicità, a meno che tu non abbia qualche news urgente da condividere con noi. Quindi ci ritroviamo tra pochissimo.